Niccolò Lattanzi, martello della Sir Safeti Perugia, una Sir Safeti che poteva avere l'opportunità di rilancio contro Segrate, invece è arrivata una brutta sconfitta, una sconfitta che come ce la spieghiamo? Come ce la spieghiamo? Veniamo purtroppo da un periodo brutto, oggi avevamo iniziato in un certo modo, la squadra secondo me ha giocato un pochino meglio del solito, nel senso che siamo stati più sciolti, il problema è che abbiamo perso 2-7 ai vantaggi, questo ci ha penalizzato purtroppo e comunque non abbiamo preso punti, questa è la cosa più grave. Adesso è dura fare un'analisi anche perché tra due giorni rigiochiamo, quindi in queste situazioni purtroppo non possiamo starci a piangere addosso e pensare alla partita giocata perché tra due giorni già siamo a giocare e quindi bisogna subito concentrarci per un'altra partita. Quello che posso dire io è che secondo me con una bella vittoria anche fuori casa riusciremo a sbloccarci, questa cosa dovrà avvenire il prima possibile per poter continuare a giocare con una tranquillità che purtroppo non sempre abbiamo adesso. È proprio l'aspetto mentale quello che può essere il freno principale in questo momento per la squadra bianconera? Sicuramente quando una squadra perde molte partite si perdono delle certezze, ogni giocatore ha insicurezza e quindi non è facile, la miglior medicina in questi casi è solo la vittoria.